Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TVCity. Crescono i casi di contagio da Covid-19 in Campania, registrati nella giornata di ieri. 62 nuovi casi a Torre del Greco, mentre il sindaco di Castellammare dice no alla zona gialla. Servivano misure più restrittive. Situazione critica negli ospedali del ASL Napoli 3 Sud, sovraffollamento e mancanza di posti. Pronto soccorso chiuso a Nola e a Viquequense. Spazio alla cronaca, operazione della Guardia di Finanza nel Napoletano. Sequestrati 6.600 articoli per la casa, contraffatti. Denunciati tre responsabili. Aggredito una famiglia inglese in visita a Napoli. Strappato un Rolex dal valore di 22.000 euro. Paura per il figlio neonato in carrozzina. Torniamo ad occuparci di Covid. Dopo il nuovo DPCM che ha consegnato la Campania alla zona gialla, c'è ancora tanta confusione sulle procedure operative da seguire per la gestione dei casi sospetti da Covid-19. Abbiamo ascoltato le opinioni dei torresi. In crescita i dati inerenti al contagio da Covid-19. In Campania, nella giornata di ieri, registrati ulteriori 3.888 casi positivi su 19.568 tamponi effettuati. In totale, quindi, sono 73.501 le positività in Campania. Attore del Greco ieri certificati 62 casi positivi al Covid-19, di cui uno ospedalizzato, mentre i restanti 61 in forma sintomatica. 15 nuove guarigioni sono state registrate nella giornata di ieri. Attestato, inoltre, il passaggio di due soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Accertato anche un decesso dell'età di 79 anni. A Dercolano i cittadini attualmente positivi al Covid sono 491, un incremento quindi di 12 casi rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 114. Un tiepido segnale per la prima volta dall'inizio di questa seconda ondata, il numero dei guariti in un giorno è superiore, seppur di poco, al numero dei nuovi contagiati. Con questo non voglio dire che la gravità del momento è finita. Anzi, la preoccupazione resta e la decisione del governo di inserire la Campania nella zona gialla non deve indurci ad abbassare la guardia. Continuiamo a fare ognuno alla nostra parte, ha affermato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto. Nel comune di Castellammare 55 cittadini sono risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Una leggera flessione rispetto ai contagi giornalieri dei giorni scorsi. Purtroppo tra i contagiati ci sono ancora giovanissimi, un bambino di 4 anni e 4 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, ha affermato il sindaco Cimmino. Castellammare tira un sospiro di sollievo, inoltre per 15 persone che hanno sconfitto il Covid-19 e che finalmente sono state dichiarate guarite. Ne mancano ancora moltissime alla pelle e sono certo che tutti ce la faranno, tra non molto. Altro dato negativo è rappresentato dallo scontro politico tra governo nazionale e regione che ha consegnato la Campania alla cosiddetta zona gialla, quando ormai pareva scontato l'ingresso in area arancione, con misure più restrittive che ci avrebbero consentito di abbassare la curva dei contagi e di allentare la pressione sul nostro ospedale San Leonardo, ha concluso il primo cittadino. 47 nuovi contagi si sono registrati a Torre Annunziata, attestate anche tre guarigioni. Sale a 334 il numero delle persone che hanno contratto il virus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 110 guarite e 6 decedute. E critica la situazione degli ospedali nell'Asla Napoli 3 Sud. Da Sorrento a Torre del Greco non mancano le difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria e nell'erogazione dell'assistenza per tutte le altre patologie. Secondo i dati forniti dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria, il quadro al momento è il seguente. Quasi saturo il Covid hospital di Bosco Trecase. Al momento 7 pazienti, di cui 5 intubati e 2 no, si trovano in terapia intensiva, 20 in subintensiva e 55 sono i posti di degenza occupati. Grave sovraffollamento di malati Covid al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabbia. Se si esclude qualche trasferimento presso altre strutture, come Bosco Trecase o Alcutugno di Napoli, la situazione resta sempre la stessa. Il numero di pazienti Covid oscilla attualmente tra i 20 e i 25 e vengono accettati sia codici rossi che codici gialli. All'ospedale Marisca di Torre del Greco, dove il vecchio padiglione è stato riconvertito in palazzina Covid, ci sono al momento 24 posti di degenza occupati, non ventilati e due liberi. Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Nei piani dell'azienda sanitaria, la riorganizzazione di questo presidio, per far fronte all'aumento dei contagi e sopperire alle difficoltà degli altri ospedali. In costiera, invece, chiuso il pronto soccorso dell'ospedale di Vicoequenze, riaperto quello di Sorrento. Una situazione critica non solo per l'aumento dei contagi in campagna, ma soprattutto nei comuni che ricadono nell'azienda sanitaria. Ma sono tante anche le difficoltà per riuscire a garantire assistenza per tutte le altre patologie. Disagi che spesso vedono i malati costretti ad una peregrinazio tra ospedali, che li espone anche ad un alto rischio di contagio. Informazioni insufficienti, confuse, talvolta persino discordanti tra loro, positivi lasciati allo sbando e spesso costretti ad autogestirsi. È caos sulle procedure operative da seguire per la gestione dei casi sospetti da Covid-19. Tra i cittadini di Torre del Greco, molte le perplessità emerse sull'organizzazione sanitaria. Emergenza Covid-19 ritiene che i protocolli, le procedure da seguire, qualora una persona risultasse positiva o un intero nucleo familiare risultasse positivo, siano sufficientemente adeguate, chiare all'utente. Non penso proprio, guarda, perché ci sono stati casi in famiglia che non hanno avuto nessuna aiuta, assistenza, niente, zero. Siamo lasciati proprio alla merce, ci danno solo ordini, solo leggi, però poi il succo proprio non c'è. Il mio nipote è una settimana, tutta la famiglia, non si è presentato nessuno, ha chiamato l'astro, il medico di famiglia. Non sempre sono chiari, veramente, infatti sono molto sui social, ma molte persone non sui social dovrebbero essere altri organi di informazione a chiarire meglio la situazione. È a conoscenza di famiglie positive, di persone positive che non vengono adeguatamente seguite. Qualcosa che ho letto tramite Facebook, delle famiglie che sono state abbandonate? No, effettivamente no. All'inizio si era molto più severi, adesso il cosiddetto contact tracing non si riesce a fare perché i contatti ne sono molti e quindi le persone sono molto spesate, non è chiaro. È a conoscenza di famiglie positive che non vengono adeguatamente assistite? Sì, abbastanza. C'è molto spavento e effettivamente anche i medici, i studi medici non riescono ad assistere al meglio i pazienti. La situazione è un po' caotica, devo dire la verità. Quindi talvolta lei mi sta dicendo che anche i medici di base abbandonano i pazienti? Ma di fatti è come se fossero costretti perché ci troviamo in un periodo dove i medici devono fare impegnative, vaccini, devono visitare i malati che sono anche di situazioni pregresse. La maggior parte sono anziani, quindi poverini, mi metto anche nei loro panni, sono obberati di lavoro. Le persone colpite dal Covid-19 vengono assistite in maniera adeguata, secondo lei? Sinceramente questo non lo so perché a noi per fortuna non è capitato di avere casi in famiglia, quindi non le saprei dire in questo senso. Emergenza Covid-19 ritiene che i protocolli, le procedure da seguire qualora una persona risultasse positiva al Covid-19 siano sufficienti, siano chiare all'utente? No, sono assolutamente non chiare all'utente perché noi ci troviamo in una condizione in cui non riusciamo, per esempio la Germania riesce a fare il tampone in circa 12 ore. Noi ci troviamo con utenti, con persone di cui c'è possibilità che abbiano il Covid o meno, di cui non sanno cosa fare. Tanto è vero che è scandalosa anche la situazione che una persona di cui si sospetta abbia Covid e quindi deve fare obbligatoriamente il tampone presso l'ASL, deve andare presso lui stesso, medesimo, spostarsi, quindi se abita in un condominio deve uscire dal condominio, usare l'ascensore, mettersi in macchina, camminare tra la gente, parcheggiare, scendere ed andare poi a fare il tampone. Non è proprio una cosa fatta bene bene perché teoricamente dovrebbero essere in isolamento queste persone perché possono farsi male loro stessi perché comunque in quel caso potrebbero o hanno una condizione immunitaria precaria e poi c'è il rischio di aumentare ancora di più i focolai. Tanto è vero che noi ci troviamo anche in una situazione in cui c'è l'influenza stagionale e quindi questa cosa ha fatto aumentare anche le richieste di tamponi perché noi viviamo in un periodo in cui viene mal di testa, ci sentiamo febbricitanti, abbiamo un po' di catarro, pensiamo di avere tutto il Covid e questa cosa ha portato ancora di più le persone a fare i tamponi. Ovviamente la regione, in questo caso ci troviamo in regione campagna, quindi parliamo di regione campagna, provincia di Napoli, non riescono a stare proprio dietro dietro a tutte queste richieste. Un po' perché sono impreparati, un po' perché le richieste sono tante, un po' perché il personale è sottodimensionato perché noi viviamo anche in un'epoca in cui il personale è molto sottodimensionato. Quindi alla fine questa è la situazione e questa viviamo. Siamo in zona gialla, a scavito di chiunque altra regione avessi detto che noi dovevamo stare in zona rossa ma siamo in zona gialla, questo perché si è valutato l'RT che è l'indice di circolazione del virus perché abbiamo province felici come Benevento che è chiaramente una provincia verde e abbiamo province rosse che è quella di Marcianise, quindi le province di Caserta e quindi questo algoritmo, questo logaritmo ci ha fatto stare nella cosiddetta zona gialla però non significa che noi potremmo entrare in zona rossa da un momento all'altro quindi dobbiamo mantenere comunque una certa attenzione. Quello che purtroppo nei cittadini non è che vedo tanto tanto. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di un'operazione tra Ottaviano e San Giuseppe Vesoviano ha sequestrato 6.647 articoli e accessori per la casa, 165 rotoli di stoffa equivalenti a 4.250 metri e 250 kg di prodotti semilavorati con il noto marchio TUN contraffatto. In particolare la compagnia di Ottaviano nel corso di tre distinti interventi in altrettanti depositi commerciali ha sequestrato migliaia di prodotti tessili per la casa e centinaia di rotoli di tessuto sui quali era posto senza alcuna autorizzazione il noto marchio simbolo del Natale. Nello specifico tutti i prodotti riproducevano marchi coperti da copyright, erano privi dei dati identificativi che riconducessero ad una produzione originale nonché dell'etichetta con l'indicazione dell'azienda produttiva autorizzata dalla casa madre e detentrice dei diritti di tutela dei marchi di prodotti. Denunciati per contraffazione, marchi e ricettazione, tre responsabili, un 27enne di Scafati, un 37enne di San Giuseppe Vesuviano e un 42enne di Ottaviano, titolari di attività commerciali operanti dei settori del confezionamento biancheria, commercio di tessuti e di prodotti via internet. Il servizio odierno è il risultato di appositi servizi pianificati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e finalizzati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa come la contraffazione, terreno fertile per le organizzazioni criminali, soprattutto nell'attuale scenario di emergenza sanitaria. La Polizia di Stato ha arrestato due giovani di 29 e 28 anni gravemente iniziati di rapina aggravata in concorso avvenuta il 15 ottobre. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire le fasi antecedenti e successiva al reato, delineando il modus operandi dei rapinatori, uno quale esecutore materiale e l'altro quale autista dello scooter utilizzato per la fuga. La vittima, in visita nella città di Napoli in compagnia della moglie del figlio neonato, è stato bloccato da rapinatori che si sono posti dinanzi al carrozzino e l'hanno aggredita al fine di strappargli dal polso un Rolex dal valore di 22.000 euro. Nelle concitate fasi dell'evento delittuoso, i conugi inglesi sono stati malmenati, riportando delle lesioni agli arti superiori giudicate guaribili in sette giorni. All'esito delle indagini, il personale della squadra mobile ha recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata alla parte offesa. Giorni di confusione in Italia. Dopo l'annuncio di Conte che ha consegnato la campagna alla zona gialla, cioè quella meno a rischio, i cittadini si dicono preoccupati per la crescita dei contagi, che si attestano sui 3.888 nelle ultime 24 ore. Anzi e paura sono gli stati d'animo predominanti, con inevitabili ripercussioni, sull'economia e sul benessere psicofisico delle persone. C'è anche, chi lamenta, la mancanza di un'informazione corretta da parte degli organi competenti. Abbiamo ascoltato le opinioni dei cittadini torresi. Ormai si ha proprio paura di uscire, di fare qualsiasi cosa, anche se ci trasciniamo, continuiamo a fare le cose. Ma c'è paura, c'è paura perché non si hanno notizie sicure dagli organi competenti. Per cui c'è tanta disinformazione che questo crea nella popolazione e soprattutto nelle persone di una certa età dell'ansia. Dell'ansia che magari potrebbe essere minore se loro fornissero delle... Mi rendo anche conto che la loro posizione non è delle migliori perché prendere delle decisioni così importanti per tutta la nazione è una cosa delicata, anche perché poi si vogliono fare i clientelismi, i favoritismi. Insomma, c'è sempre l'aspetto del guadagno che anche noi ci pensiamo, ovviamente, perché quanto di questo è vero, quanto di questo è manovrato. E insomma, le problematiche sono talmente tante che ci hanno proprio, almeno personalmente, come tante altre persone che conosco, ci hanno proprio buttato a terra. Non si ha voglia neanche di far girare l'economia. Qua la vita si è fatta troppo triste. La gente ha una paura. E noi siamo come esastrati per sopravvivere. Dobbiamo tenere la distanza, dobbiamo stare un po' attenti di qua, un po' attenti di là. Purtroppo, dobbiamo sperare che passa tutto e finisce presto. Questo è un problema grave per tutto il mondo. Speriamo che trovano questo vaccino e aiutino a tutti. È un periodo un po' difficile, però per fortuna chi ha voglia di lavorare trova sempre qualcosa. Basta solamente avere cura di se stessi e rispettare gli altri. Solo così possiamo uscire da questa situazione. Quali sono le difficoltà maggiori che hai incontrato durante questi mesi di pandemia? Le maggiori difficoltà io le ho riscontrate proprio con le persone per strada. Perché ci sta una profonda paura da parte di tutti quanti. Tendiamo ad allontanarci, a mantenerci distanti l'uno con l'altro. E questa non è una cosa che può favorire bene per la società. Adesso qui a Torre Greco siamo particolarmente rovinati. C'è molti contagi. Il rischio è più alto. L'altra volta, per i tuoi prima di dire, non c'erano molti contagi a Torre Greco. Quindi si stavano un pochettino più tranquilli. Adesso la cosa è cambiata. Ci mettiamo la mascherina. Ma la mascherina penso che non è il vantaggio che noi possiamo trarre. Ci distanziamo fra di noi per non contagiarci. Però la vita diventa difficile sia per il lavoro sia per la vita sociale. Ho sei figli, quindi chi va a lavorare, chi non va, chi sta a casa. I problemi ci sono. Quindi che ci posso fare? Dobbiamo andare avanti. Perché oramai il Covid c'è. Bisogna lottare per cercare di finire questa storia. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione-tvcity.it o al numero 340-6561-484. Arrivederci e buon weekend. Grazie per la visione.